Io sono rimasto molto contento, sono molto positivo, ritengo che tu Nicoletto in questi giorni ci hai messo praticamente le armi in mano, ci hai insegnato come usarle e ci hai messo sul fronte della battaglia. Adesso sta a noi entrare in guerra, qualora noi non abbiamo tra virgolette i testicoli per andare a combattere, ci ritireremo di dietro, andremo a fare da mangiare per gli spartani, andiamo dentro il castello ma non diventeremo mai spartani se non andiamo a combattere, quindi io devo combattere perché voglio essere uno spartano, questa la vedo un po' come insomma tu hai fatto quello che è stato necessario e ci hai dato tutto quello che sono stati gli strumenti, adesso sta a noi andare dentro, se non abbiamo il coraggio di affrontare la battaglia c'è posto anche per chi deve far da mangiare e a chi combatte insomma quindi è una scelta che sta a noi insomma questa.